ciao ragazzi buonasera a tutti faccio il video adesso perché sinceramente dopo la partita non c'evo voglia non c'evo voglia di fare il video non c'è più voglia di dire le stesse cose allora provo provo a mettermi nella testa nella testa di gente che è contenta di vedere una juventus ridotta in questo stato qua una juventus che scende in campo per non vincere la partita scende in campo soprattutto per non perdere la partita non produce nulla fa un tiro a fare la juventus fa due tiri in porte tutta la partita a proposito agli amanti delle statistiche spetti spetti gol come cazzo si chiamano 0,17 0,17 quindi vuol dire che tu non hai mai avuto un'occasione da gol se mai avuta l'unici due tiri in porta quello di fagioli e quello di chiesa sul passaggio su errore tecnico del giocatore dell'atalanta che li ha passa lui tu per tu col portiere e luce del portiere basta questa è la partita della juve poi grande lotta in difesa nel primo tempo almeno non ha concesso praticamente quasi niente all'atalanta concesso pochissimo nel secondo tempo presi a pallonate dall'atalanta possiamo festeggiare potete festeggiare 1 0 0 un punto grazie solo esclusivamente agli errori tecnici degli attaccanti dell'atalanto dei centrocapisti come cop miners che si mangia due gol fatti più più altri più la traversa con la grandissima parata di cesni di muriel presi a pallonate questi nel secondo tempo potevano farti 23 gol ma comodi 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 noi impassibili noi squadra spenta squadra solo attenta a non prendere gol che poi i gol ripeto se cop miners non è in vena non si mette la barba bianca il cappello rosso da babbo natale tu questa partita la perdi 2 a 0 e chiudiamo la storia questa è la storia del juventus poi volete farmi passare che è un buon punto c'è qualcuno ieri che diceva prima della partita quindi ieri ovviamente anche se perdiamo con l'atalanta non è poi chissà quale scandalo quindi la juventus è diventata una provinciale grazie a questi tifosi provinciali questi tifosi che credono di di fare l'albinole f con tutto il rispetto dell'albinole f e di queste squadre qua un tifoso della juventus che va a bergamo a dire anche se perdiamo non è uno scandalo poi cosa possiamo dire così io cosa io voglio sapere da voi cos'è che posso dire guardare il risultato un punto a bergamo visto che la gente anche se si perdeva non era un dramma quindi oggi la juventus ha vinto perché pareggiato non hai perso a bergamo quindi devi essere felice e festeggiare come una vittoria perché l'importante è non aver subito gol l'importante è che è che cosa l'importante che cosa io non c'ho neanche veramente ne parlavo adesso in live io non ho neanche più la voglia la voglia io vi giuro che io qualche anno fa quando c'era la partita della juve fremevo non vedevo l'ora che arrivava il momento che giocava la juve ma anche se era un amichevole e attenzione se giocava alla juventus contro l'ultima della serie c in amichevole io non vedevo l'ora che arrivava il giorno della partita io oggi questa voglia non ce l'ho non ce l'ho perché so che vado incontro sempre solito alle stesse cose sempre solito alle stesse dichiarazioni sempre solito allo stesso gioco allo stesso non gioco basta tutto qua poi alla fine il dio sceso in terra è stato intervistato ha detto nulla perché non tanto non dice nulla perché lui parla solo dell'occasione del passaggio sbagliato della cosa non parla di calcio perché non è in grado di creare proporre calcio hanno fatto una domanda adesso la juventus ha la possibilità di riposarsi per una settimana e poi affrontare il derby con che spirito affronterà il derby la risposta qual è stata anche il torino non ha le coppe quindi di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando questo voglio sapere allora se domenica si vince il derby andrà tutto bene il max è in ripresa non la juve max è in ripresa cosa se perdiamo o se pareggiamo il derby saremo scarsi di nuovo siamo scarsi quello è scarso quelle scarso attenzione oggi gente che fino a domenica scorsa diceva che vlaovic o pippone vlaovic di qua vlaovic la oggi diceva ci mancava vlaovic cioè l'incoerenza come il loro allenatore sono essi siete diventati incoerenti va bene quindi visto che devo guardare il risultato buon punto a bergamo basta finita non chiedermi nient'altro della partita non chiedetemi nient'altro basta perché io devo guardare il punto domenica con il lecce lo schifo dello schifo guardo i tre punti perché questo è però lì era difficile perché veniva da un 4 a 2 allora era giusto vincere oggi però vai a bergamo a bergamo e quindi vai per non vincere la partita per pareggiarla per non subire gol ma ti è andata bene che non li hai subiti quindi devo essere contento anche del pareggio di bergamo col torino se se non vinco ditemi di cosa devo essere contento e basta tutto qua tutto qua io adesso mi sto guardando la roma sono un auto lesionista devo ammetterlo sono un auto lesionista cari amici romani cioè guardare prima la partita della juve e poi passare a vedere la partita della roma vuol dire auto lesionismo auto lesionismo puro io oggi ho guardato udinese genoa e ho visto una bella partita un primo tempo spettacolare da parte di tutte e due le squadre soprattutto il genoa nel primo tempo poi il secondo tempo ci ha creduto di più l'udinese hanno pareggiato la partita ma ho visto due squadre che giocano a calcio pure con i limiti tecnici che hanno non vuol dire nulla che se tu c'hai dei giocatori limitati tecnicamente tu non puoi giocare a calcio allora se no non giocherebbe più nessuno a calcio giocherebbero solo quelli che hanno i fenomeni queste sono le 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 barzellette che vi dicono che vi fanno credere che vi vogliono inculcare nella testa e basta voglio aggiungere voglio aggiungere una cosa di quel ragazzo che sta girando su tik tok che ha fatto vedere quel video io l'ho fatto vedere anche in live di isaac se non sbaglio aspetta ce l'ho ancora qua aperto che ci guardo no l'ho più ah sì 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 eccolo qua isaac rizzo isaac rizzo su tik tok intanto vi invito vi invito ad iscrivervi a quel ragazzo lì cioè che ha fatto vedere un video dove allo stadio in juventus lecce lui era in tribuna in curva adesso non so dove era senza insultare nessuno senza lanciare oggetti eccetera eccetera ha fatto vedere una sua maglietta una t-shirt bianca che lui aveva con su scritto a pennarello allegri out sono andati lì gli steward gli hanno sequestrato la maglietta e addirittura gli hanno fatto cancellare la foto sul telefono che lui c'era fatto con allegri out ma ma dove siamo arrivati ma dove siamo arrivati ma veramente voi veramente voi state accettando sta roba qua io invito quello steward lì io non ci vengo allo stadio perché finché c'è allegri non ci vengo ma quando vengo io allo stadio se mi vedete con la maglietta allegri out vienimela a togliere a me la maglietta e vienimi a dire a me cancella le foto sul cellulare abuso di potere tu steward non sei nessuno non vali un cazzo caro steward capito tu non puoi sequestrare niente a nessuno a meno che non chiami le forze dell'ordine a fare queste cose se hanno qualcosa di veramente offensivo o pericoloso adesso non si può dire neanche allegri out quindi fatemi capire allo stadio non puoi fischiare non puoi dire allegri out ma la smette ma che è una dittatura questa ma cos'è ma dove siamo arrivati ma anche un allegriano convinto anche un allegriano convinto dotato di un po' di cervello deve ribellarsi a queste cose qua deve ribellarsi perché qua non vuol dire se sei scritto allegri out o allegri in non è questo è il concetto di base che è sbagliato cioè qual è l'offese in allegri out quel ragazzolino gli piace allegri qual è il problema magari uno va con la maglietta rabbiò out quindi cosa c'è di offensivo sai qual è il problema che voi voi siete la rovina dell'Italia ma siete voi perché accettate tutto questo e non combattete per i vostri diritti perché è un vostro diritto esprimere un'opinione educatamente educatamente perché quel ragazzo lì stava esprimendo un'opinione educatamente non era non stava spaccando lo stadio però dopo vi piacciono quando vengono gli ultras magari delle squadre avversarie o anche i nostri quando vanno all'altra parte che magari spaccano i bagni seggiolini che volano eccetera eccetera facciamo entrare i motorini negli stadi là va bene uno con una magliettina allegri out non può entrare Juventus sei una vergogna su questo arrivederci